Quest'anno, nel 150esimo anniversario della sua morte, è uscito la traduzione italiana della mia biografia di Cristina Trivulzio di Belgioioso con l'editor Scalpendi e con sostegno della Fondazione Trivulzio. Il titolo completo è Cristina Trivulzio di Belgioioso, storiografia e politica nel risorgimento. Il 19 di novembre, in occasione anche delle inaugurazioni di una bellissima mostra dedicata a Cristina Trivulzio di Belgioioso, si farà qui a Palazzo Isimbardi la presentazione del libro. In questa occasione avremo anche ospiti per dialogare e discutere dell'opera di Cristina Trivulzio di Belgioioso e della sua eredità. Questa figura straordinaria, una vera icona del risorgimento, ha ancora tanto da raccontare anche ai giorni nostri. Io nella mia biografia ho cercato di cogliere proprio questo suo pensiero politico, facendomi proprio con i vari filoni della sua vita, della sua opera come giornalista, come scrittrice, come storica, come riformatrice. Questa opera va ancora valorizzata e ricordata oggi e in quella giornata di studio vogliamo approfondire e invitare tutti voi a dialogare e conoscere Cristina Trivulzio di Belgioioso. Vi aspettiamo. Grazie. 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 Grazie.